Ci sono fondi disponibili per il wedding, voi sollecitate la Regione a far sì che questi fondi possano essere utilizzati? Sì, dal 30 giugno di quest'anno con un DPCM il Governo ha stanziato circa 9 milioni di euro, di questi 9 milioni di euro 5 milioni sono per la ristorazione e il settore del wedding. Sappiamo tutti che a causa della pandemia il wedding di intero settore è crollato completamente, 80% in meno di matrimoni. Significa mandare in malora un intero settore che riguarda bomboniere, fiori, ristorazione, tutto ciò che ruota intorno a un matrimonio. Immaginate quanta gente è rimasta completamente in ginocchio, molte di queste aziende hanno chiuso i loro battenti. Oggi abbiamo la disponibilità economica immediata di 5 milioni di euro per dare loro l'occasione di aspettare che il settore intero riparta. Il secondo aspetto di questa conferenza stampa che vogliamo sottolineare, che già con la risoluzione di maggio di quest'anno avevamo chiesto al Governo, è di riconoscere tutti, chiedere al Governo di riconoscere l'intero settore wedding attraverso un unico codice Ateco, che dia loro la possibilità di avere un'unica voce con cui interloquire con la Regione e col Governo, che li racchiuda, che gli dia maggiore spessore in una trattativa eventuale, ma soprattutto che sia molto più semplice stanziare i fondi al settore e non a decine di settori che piccoli non rappresentano nulla e non vengono mai ascoltati. Come diceva lei, tante aziende hanno però chiuso. Sì, tante hanno chiuso. Questo è un settore che in questo momento è fermo. La gente purtroppo non si sposa più. Quello che possiamo fare è sostenere chi ancora ci crede, chi ancora con le loro piccole e medie imprese cerca di tirare avanti, non chiudere i battenti e dare lavoro. Ci riempiamo tutti la bocca di voler dare gli aiuti a tutti. Poi in realtà anche quando arrivano i soldi ci fermiamo. Oltre 5 milioni di euro immediatamente disponibili, questo Governo si dia una svegliata.